Ciao a tutti, bentrovati, spero siete bene oggi. Io sono Stefania e oggi pratichiamo una breve sequenza di Yin Yoga. Se non sei familiare con questo stile Yin Yoga, sappi che consiste in posizioni tenute in maniera statica e passiva, quindi non è come un flow, non si suda, si sta prevalentemente o seduti o sdraiati sul pavimento. Abbiamo bisogno del supporto di un bolster, questo per esempio è semplicemente la parte del divano, magari tu hai proprio un bolster di yoga che puoi usare, dei cuscini, anche normalissimi cuscini, cuscini da meditazione, se hai dei blocchi yoga anche puoi utilizzare questi qui, in modo tale da essere effettivamente supportati nelle nostre posizioni. Infatti Yin Yoga va a lavorare più sui fascia, legamenti, tendini e così via, sulle articolazioni, le ossa, piuttosto che sui nostri muscoli. Quindi se noi non siamo supportati, per esempio immaginati questa posizione che si pratica anche con altri stili di yoga che sono più Yang, più energizzanti, in questo modo, se non abbiamo nessun supporto sotto le nostre ginocchia, in questo caso comunque sotto le nostre gambe, quello che va a lavorare più sono i muscoli. I muscoli prendono il sopravvento, diciamo, nel nostro stretching. Invece se noi abbiamo questa posizione qua, ma supportata, e magari come faremo oggi, la facciamo addirittura con la nostra schiena sul pavimento, ma poi autorizziamo le nostre gambe a essere supportate da cuscini, blocchi yoga e quant'altro, allora possiamo veramente rilasciare. Quindi è sicuro di avere qualche supporto, si pratica anche Yin Yoga senza nessun supporto, però molto probabilmente andrà a lavorare più sullo stretching, nell'allungamento dei muscoli per sé, rispetto ad andare più in profondità. Prima di incominciare, come al solito, iscriviti al canale se non lo sei già, lascia un like, un mi piace a questo video se ti è piaciuto, e come gesto di ringraziamento ecco una bellissima foto. Quando sei pronto per incominciare, portati sul tappetino, incominciamo in Balasana, la posizione del bambino. Cerchiamo di avere le ginocchia che puntino leggermente verso il fuori del tappetino, e poi vediamo se riusciamo a lasciare i glutei verso i talloni senza che ci faccia male, ci preoccupiamo di essere supportati più nel torso. Se non riusciamo ad andare così in profondità, allora vogliamo essere supportati anche nelle nostre gambe, e quindi avrai un bel cuscino che supporta il sedere, in questo modo, e quindi vedi il sedere un po' più in alto, oppure se riesci, come ti dicevo, ad andare un po' più in giù, avrai il cuscino magari sotto il petto, o solo sotto la fronte, a seconda insomma di quanto puoi andare in basso. Magari se è confortevole, comunque puoi lasciare anche la testa a terra, o la fronte, oppure una delle due guance. Le braccia sono rilassate, le puoi estendere verso il fronte del tappetino, con i gomiti leggermente piegati. Se preferisci puoi fare un'interna rotazione delle tue spalle, di modo tale che le spalle si rilassino veramente verso il tappetino, le mani sono verso i nostri piedi. E ci prendiamo un attimo per arrivare in consapevolezza sul tappetino. consapevoli dell'ambiente circostante. Portiamo poi l'attenzione verso il nostro corpo, notando tutte quelle parti del corpo che sono in contatto con il tappetino, oppure con un cuscino, un bolster, un blocco yoga. Notiamo proprio con il senso del tatto. Iniziamo poi a sentire anche altre sensazioni fisiche, se ci sono magari più all'interno del nostro corpo. Durante la pratica di yoga stiamo nella stessa posizione per alcuni minuti, di solito tre minuti. Quindi abbiamo tutto il tempo per partire magari un po' più supportati, in una maniera più confortevole, e poi esplorare la posizione. Possiamo anche leggermente modificare la posizione, cambiando un po' l'angolo di qualche articolazione, provando a fare una rotazione interna o esterna, magari con le spalle, a fare un leggero oscillamento delle anche, vedere dove ci porta. cercando di diventare sempre più in contatto con il nostro corpo, di sentire il nostro corpo, piuttosto che pensare o analizzare o criticare il nostro corpo. Se non l'hai già fatto, diventa anche consapevole del tuo respiro. Rispetto ad altri stili di yoga, durante gli yoga puoi rilassare completamente la pancia quando inspiri, rilassarla quando espiri. sentire questo gentile massaggio che avviene quando la pancia fa questo tipo di movimento. Se preferisci puoi espirare dalla bocca, se pensi che in questo modo riesci a rilasciare qualche tensione dalla gola. voglio offrire una variazione per strecciare un po' di più la zona delle spalle e delle braccia, estendendo completamente questa volta le braccia, portando la fronte a terra, spingendo bene verso il basso e il dietro. Puoi anche fare questa posizione con il sedere più sollevato e le ginocchia parallele tra di loro. Quindi in questo caso non andrai molto a lavorare sulle anche, nonostante ci sia comunque una flessione delle anche. Non vai a rilasciarle in questo caso, però lavori magari su rilasciare un po' di più le tue spalle. Più porti il petto verso il tappetino e più intenso diventa nelle spalle. Come al solito procediamo veramente lentamente in consapevolezza. Grazie a tutti. Lentamente con la prossima ispirazione ci solleviamo. Ci diamo un attimo per fare magari qualche cerchio con la schiena, se senti la necessità di controbilanciare la posizione. cerchi eppure la posizione della mucca e del gatto, giusto per mobilizzare la nostra schiena e soprattutto il nostro collo. E poi lentamente ci portiamo con il sedere a terra per la prossima posizione. La posizione del lombrico, caterpillar, chiamano in inglese. Abbiamo le gambe estese questa volta, ovviamente potrebbero non essere completamente estese, soprattutto se provi a flettere i piedi e potresti aver bisogno di piegare leggermente le ginocchia. Se pieghi leggermente le ginocchia vuoi avere una coperta, un asciugamano, magari un bolster che è un po' più sottile di questo, da mettere sotto le ginocchia, sempre per il sotto discorso che vuoi essere supportato. Puoi piegarle anche di più e portarti in questo modo, supportando quindi il torso con le tue stesse gambe, in questo modo allunghi tutta questa zona qui, la parte finale dei bicipiti femorali, i glutei e la schiena, ma non tanto i tuoi polpacci e questa zona qua, dei bicipiti femorali. Se vuoi lavorare più sul retro delle tue gambe, allora ti consiglio di cercare di stendere le gambe come puoi. Se vedi che vai indietro con la schiena, siediti sopra un cuscino, mi raccomando di non sederti completamente, altrimenti abbiamo risolto poco, quindi non così, vedi sto ancora cadendo indietro, ma siediti sul limitare, in questo modo. Se questo ancora non funziona, puoi fare la stessa identica posizione, stando però con le gambe al muro. È anche molto bello in estate, soprattutto per coloro come me, che hanno male alle gambe durante l'estate per problemi di circolazione. Quindi quello che farai è che sei sdraiato sulla schiena, te lo faccio vedere solo un attimo così, sei sdraiato sulla schiena e le tue gambe sono completamente appoggiate sul muro. Cercando di tenere le gambe dritte, hai più o meno lo stesso tipo di stretching, di allungamento, un po' più gentile, sempre sulla parte delle tue gambe. Per coloro che sono un po' più flessibili e riescono ad andare un po' più in avanti, anche qua vuoi essere supportato. Quindi il bolster, in questo caso, lo mettiamo sulle gambe e poi rilassiamo o le braccia oppure a seconda appunto della flessibilità e mobilità magari possiamo andare un po' più in giù. Di nuovo anche qua, puoi rilasciare sulla fronte se vuoi mantenere tutta la schiena dritta. Oppure ricordi, se appoggi una guancia, cerca di fare il cambio, quindi magari stai una decina di respiri con la guancia destra, per esempio, appoggiata e poi fai altri dieci respiri con la guancia sinistra. Grazie a tutti. Un piccolo reminder quando noti che diventi distratto, che inizi a pensare a qualcos'altro, cerca di riportare l'attenzione sul tuo corpo, sulle sensazioni fisiche, riposando proprio la consapevolezza sul tuo respiro. Quindi continui a seguire l'inspirazione, segui l'espirazione, segui la prossima ispirazione, segui la prossima ispirazione. È normale che la mente si distragga, soprattutto in questo stile di yoga in cui stiamo un po' più a lungo nella posizione. però i veri benefici di questa pratica soprattutto si vedono se effettivamente hai modo di rilassarti, di riconnetterti al tuo corpo. otterrai molto di più praticando yin yoga in questo modo, sto fermandoti veramente sul contatto con il tuo corpo, nel sentire le sensazioni, nel avere una respirazione un po' più profonda e consapevole rispetto a fare gli stessi tipi di posizioni, ma magari guardando Netflix o comunque distraendoti, fantasticando con la tua immaginazione. ricordati di cambiare guancia se stai tenendo una guancia per volta. Voglio offrire anche un'altra variazione se vuoi unire questo piegamento in avanti con anche un po' più di apertura delle anche, allora sollevati leggermente, separa le gambe a B, te lo faccio vedere da davanti, se sei al muro con le gambe puoi stare tranquillamente al muro e quindi le gambe da essere dritte le apri a B. Se sei seduto sul cuscino continua pure a mantenere il cuscino sotto il sedere, apri le gambe a B, non deve essere una grandissima B, infatti può essere anche più piccola di questa qui, e se avevi il bolster sulle tue gambe prima, nella posizione del lombrico, nella posizione della spaccata laterale, la teniamo di nuovo davanti a noi, se così è troppo basso puoi semplicemente piegare, o magari ti serve ancora più alto, insomma a seconda di quanto ti serve andare in avanti, ricordati sempre di essere supportato, e quindi se magari durante un vignasa tu non usi niente, perché riesci per esempio afferrando i pollici, gli alluci, a portare la fronte a terra, ecco in yoga non vogliamo fare quello, vogliamo rilassarci, quindi sì teniamo le gambe aperte, magari anche un po' di più di quello che sto facendo io, se c'è più mobilità, ma poi ci rilassiamo in questa posizione, cerchiamo di essere veramente supportati. e poi ci rilassiamo in questa posizione, grazie a tutti... grazie a tutti... grazie... grazie a tutti Senti delle sensazioni tipo formicolio oppure una sensazione di intorpidità. Il sentimento della serie non sento più le dita dei piedi o qualcosa del genere, questo non è un buon segno, probabilmente stai andando a pizzicare qualche nervo, sei andato un po' troppo oltre il tuo range of motion, la tua possibilità motoria e quindi se per esempio stai facendo la posizione, la variazione insomma con le gambe separate a V, cerca di ridurre per esempio la distanza tra le tue gambe o cerca di venire un po' più in alto con la tua schiena e con la testa, e di essere supportato un po' di più o prova la variazione appunto con le gambe supportate dal muro. Se ti serve fai anche dei piccoli movimenti magari con le caviglie o piegando le ginocchia un po' di più. Un'altra variazione è un po' più facile magari per quelli che sono più beginner, più principianti, se vuoi tenere le gambe separate e aperte puoi anche piegare le ginocchia, ve lo faccio vedere in questo modo, puoi anche piegare le ginocchia anche in questo modo e puoi andare appunto in avanti. Stai continuando comunque ad allungare più o meno lo stesso gruppo di muscoli, magari in differente modo ma stiamo comunque lavorando in questo modo. Facciamo ancora qualche respiro in qualsiasi di queste variazioni, ne do più di una perché ovviamente ognuno è diverso e anche ogni giorno insomma la pratica può essere diversa e magari hai bisogno di qualche variazione. Lentamente poi ci solleviamo, ci portiamo adesso sdraiati a terra per un twist o una rotazione della spina dorsale, anche questa la facciamo supportata, quindi mantieni comunque i cuscini, i bolster a portata di mano, ti faccio prima vedere un attimo senza il bolster, spero che ci stia in camera. Allora ci portiamo sdraiati sul tappetino yoga. Poi portiamo le ginocchia, te le faccio vedere da che parte, quella sinistra, le ginocchia le lascio dalla parte sinistra e vedi magari, qua è il limite, però vedi che ti manca un po' di spazio. Se tu stai qui, cosa fai? Prova, contrai i muscoli necessariamente, contraerai molto probabilmente gli flexors, il gluteo quello soprattutto che sta sopra, nel mio caso quello destro e magari vai a creare anche delle tensioni nella parte laterale del torso, addirittura tutto su verso la schiena, quindi invece no, vogliamo essere supportati. Allora se sei in questa posizione qui, che tutte e due le ginocchia vedi sono sollevate, metti un cuscino, a me in realtà qua basterebbe questo. metto questo qui, vedi in questo modo, di modo tale che le ginocchia siano sopportate. Se invece un ginocchio è praticamente lì a terra, ma è quello superiore che è sollevato in questo modo, allora prova a mettere il bolster o i cuscini o i blocchi yoga in mezzo alle gambe, di modo tale da avere il supporto in questo modo. Adesso qua tu stai già facendo una rotazione, vedi che il mio petto sta fissando su, verso il soffitto, le mie ginocchia sono verso sinistra, quindi qua io già lo sento, anche nei muscoli obliqui, ovviamente anche nella mia schiena. Quindi se tu già lo senti così, puoi stare tranquillamente così, con le mani rilassate o sul tuo torso, se vuoi le rilasci, le apri, magari così tipo a cactus, no? E le rilasci a terra, se vuoi intensificare un pochettino, estendi il braccio destra verso destra e ruota anche il collo verso quella direzione lì. Se noti però che la spalla destra sta in aria, non riesci a toccare terra, ok? Quella della parte del twist, nella mia quella destra, allora anche lì ti serve un blocco yoga, il blocco yoga ovviamente è un po' duro, se riesci meglio un cuscino che piazzerà in questo caso sotto il tuo braccio destro o quantomeno sotto la spalla destra, di modo tale da avere un po' più di supporto. Se ti fa male il collo, mi raccomando, guarda in alto piuttosto che magari verso le tue ginocchia, cerca di trovare una posizione che sia rilassante anche per il collo, ovviamente puoi fare anche dei piccoli movimenti, sempre un momento in consapevolezza fino a che magari non trovi la stabilità e la voglia di stare un po' di più magari in un lato. Una volta che ti sei sistemato nella posizione, ci cerchiamo di soffermare nuovamente sul respiro, cercando di aumentare la durata del respiro, se è possibile. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Se preferisci stare un po' più lungo da questo lato, per favore senti il libro, di stare un po' di più. Se sei pronto per cambiare il lato, allora lentamente, sempre con controllo e consapevolezza, anche nelle transizioni, ci riportiamo al centro e spostiamo le ginocchia, questa volta dall'altro lato. Di nuovo, possiamo scegliere se supportare semplicemente le ginocchia e stare lì, oppure intensificare la nostra rotazione, estendendo il braccio sinistro verso sinistra, portando la spalla sinistra o a pavimento o supportata da un cuscino. E questo, come puoi notare, il mio ginocchio sinistro è in alto, perché io ho un po' di scogliose, quindi il twist da questo lato qua mi è un po' più difficile, quindi cosa faccio? Anziché stare così, che non è solo, mi crea un po' di disconfort, ma tra l'altro mi fa irrigidire i muscoli, che non è quello che voglio, non è che sia sbagliato, ma non è quello che voglio durante una pratica yin, non è quello il fine, diciamo. E allora mi supporto, mi supporto con un bel cuscino e torno a concentrarmi in questo modo sul mio respiro. Grazie. Grazie. Se sei pronto per cambiare posizione, lentamente ci portiamo al centro per l'ultima posizione di oggi, la posizione della farfalla supportata, Subtapadakonasana, un paio di opzioni qua. Se ci vuoi aggiungere un back bend, quindi un'apertura qua del petto, allora usa il bolster di yoga o qualche cuscino un po' spesso, diciamo, sotto la tua schiena. Il sedere è a terra e la schiena e la testa sono supportati. Adesso questo è davvero molto alto, però è quello che ho qua. Per le gambe invece, portiamo le ginocchia, sono sollevate verso il soffitto e poi le apriamo verso l'esterno. I piedi sono insieme e anche qua vedi, se le ginocchia sono così a mezz'aria e senti che ti pesa, ti consiglio di mettere anche lì o un cuscino sotto ciascun ginocchio oppure anche solo dei blocchi yoga. Mi va giusto bene che ho l'harmonium dal lato destro, così mi supporta la gamba destra. Ogni tanto bisogna essere anche creativi. Rilassiamo le mani magari verso l'addome. Se preferisci, per aprire un po' di più il petto, puoi anche separare le braccia e lasciare che le mani siano rivolte verso l'esterno. Se parte va bene, chiudi gli occhi e mantieni uno sguardo rilassato verso il soffitto. Anche qui, magari dopo qualche respiro, puoi rilassare un po' di più le anche e quindi sposti i cuscini un po' più verso l'esterno, così che le anche si rilassino di più verso terra, però sempre gradatamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vuoi stare un po' più a lungo in questa posizione, stai pure, altrimenti lentamente chiudi le ginocchia insieme, portati da un lato, premi con una mano per portarti su a sedere. Una volta che ti sei portato a sedere, rilascia pure i cuscini da un lato, porta i piedi a terra, mobilizziamo un attimino il corpo, le mani a terra come supporto, lasciamo andare le ginocchia verso un lato, le portiamo in alto, le facciamo cadere dall'altro lato. Lento, 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 respiri lunghi, espiriamo dalla bocca se è possibile. Questa è una posizione che viene usata spesso in yoga per controbilanciare dopo essere stati tanto tempo in determinate posizioni. Si chiama in italiano, penso, pal di mulino, windshield in inglese. Torniamo al centro e stendiamo le gambe, facciamo un piccolo shake delle nostre gambe. Possiamo anche fare andare a ruotare i piedi portando le mani dentro di noi, possiamo far ruotare le caviglie in un senso e nell'altro. Ci portiamo poi a sedere, se parteva bene fare questa posizione che si chiama su kasana, posizione da seduti, con un bel cuscino sotto il sedere, altrimenti trova un'altra posizione da seduto che funziona per te, magari con una gamba leggermente stesa. Mobilizziamo anche un attimino il torso e le braccia, iniziamo con l'estendere le braccia, si chiama anche posizione dello zombie, e sciacchieriamo i nostri polsi, lasciamo che i gomiti siano leggermente piegati, sciogliamo anche un pochettino le spalle. Portiamo poi le braccia verso l'alto, inspiriamo qua, stendiamo bene la schiena, guardiamo verso l'alto, e portiamo le mani in namaste davanti al centro del cuore. Ancora, inspiriamo, espiriamo, espiriamo, portiamo sulle braccia, espiriamo, facciamo una rotazione da un lato, io sto andando verso il mio sinistro, le mani rilassate verso terra, espiriamo, torniamo al centro, le braccia verso l'alto, espiriamo, torsione dall'altro lato. Facciamo ancora una volta, inspiriamo verso il centro, espiriamo, rotazione, primo lato, e inspiriamo, torniamo al centro, espiriamo, rotiamo dall'altra parte, porta anche lo sguardo verso la direzione della tua rotazione, inspira, torna al centro, espira, lascia andare una mano verso terra, facciamo una flessione laterale da quel lato lì. Facciamo bene la parte laterale del corpo, poi inspiriamo, torniamo al centro, lenti, controllati, espiriamo, andiamo dall'altro lato. Con una piccola molla, ci riportiamo in alto, lo facciamo ancora un paio di volte. Primo lato, torniamo su, ed espiriamo, andiamo dal secondo lato. Inspiriamo, torniamo al centro, espiriamo, lasciamo andare il mento verso il petto, facciamo giusto un paio di rotazioni con il nostro collo, tanto come sta. Lentamente. Facciamo le rotazioni anche dall'altro lato, sempre con il nostro collo. Lentamente torniamo al centro, portiamo entrambe le mani sul centro del cuore, una sopra l'altra, e magari chiudiamo gli occhi, altrimenti manteniamo uno sguardo rilassato sul pavimento. Ci prendiamo un attimo per ringraziare il nostro corpo, soprattutto se ci cogliamo spesso criticare, criticando il nostro corpo, o giudicando il nostro corpo. Ecco, proviamo invece adesso semplicemente a dire grazie per tutto quello che fa per noi. Cerchiamo di contivare un senso di non solo consapevolezza, ma anche di gentilezza verso noi stessi. Sapendo che stiamo dando del nostro meglio. Se vuoi uniscite a me per un OM, inspiriamo. OM E ti ringrazio per aver praticato con me. Namaste. Spero che questa pratica più lenta ti sia piaciuta. Se hai qualsiasi domanda, richiesti chiaramente, o qualche commento, per favore, lasciala nella sezione commenti. Come sempre, prenditi cura di te e continua a praticare. Ciao! Musica